Sia lodato Gesù Cristo Ciao amici miei, eccoci qui in questa meravigliosa comunità per ascoltare il Vangelo di oggi con fra Stefano, il Vangelo del giorno 24 maggio, santa Maria ausiliatrice, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo Il tuo aiuto Dio onnipotente ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle opere. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco Gloria a te o Signore In quel tempo, Gesù, partito da Cafarnao, venne nella regione della Giudea, al di là del fiume Giordano. La folla corse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro, come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma all'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei, e se lei ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Parola del Signore Lode a te o Cristo Sicuramente, una parte rilevante della morale cristiana riguarda la sessualità. E questa non è una scelta arbitraria che ha preso la chiesa, ma dipende dal fatto che la sessualità è un elemento importante, sia nella vita di ogni singola persona, come pure per lo sviluppo della società umana. E se, da un certo punto di vista, è importante trovare un proprio equilibrio e una disciplina nella sessualità per il benessere psichico, fisico, relazionale, emotivo e spirituale, è anche vero che la religione in alcuni casi è caduta in una forma di fariseismo in cui la regola è diventata più importante della persona stessa. Se leggiamo il Vangelo ci accorgiamo che Gesù non ha mai messo questo tema al centro della sua predicazione. Per Gesù al centro di ogni cosa c'è la misericordia, il perdono, la conversione, la giustizia, la solidarietà e la fede naturalmente. Quanto al matrimonio ci ha confermato che il matrimonio è sacro e che l'adulterio è un peccato, ma con questo non ha condannato nessuno anzi. In quell'occasione in cui aveva incontrato una donna adultera le ha detto «Io non ti condanno, vai e non peccare più». Cosa direbbe oggi Gesù a tutte quelle persone che oggi vivono situazioni matrimoniali che nell'antichità non erano nemmeno immaginabili? Nessuno di noi lo può sapere con certezza. Personalmente, conoscendo il modo di fare di Gesù, non credo che avrebbe condannato nessuno, perché per ogni persona c'è una via di salvezza che nasce dall'incontro con lui. Non importa quello che hai fatto, ma ora vieni e seguimi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. LA BENEDIZIONE PER TE E PER LE PERSONE CHE PORTI NEL CUORE Il Signore sia con voi Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo. Amen E do il benvenuto a chi ci segue da poco e clicca per iscriverti subito e unirti alla comunità del Vangelo per restare sempre aggiornato e favorire la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto Ciao ciao e Abbi cura di te!